A Bari alvia la campagna Ogni Vita Conta, omaggio ai medici caduti durante la pandemia di Covid-19. È stata lanciata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dall'Ordine dei Medici di Bari attraverso una serie di affissioni nelle strade del capoluogo pugliese e della provincia. Ascoltiamo. Ogni vita conta, oltre un milione di guariti dal Covid, grazie anche a centinaia di medici che hanno dato la vita per salvarli. È il monito lanciato in questi giorni dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dall'Ordine dei Medici di Bari attraverso una serie di affissioni nelle strade del capoluogo pugliese e della provincia. La campagna vuole rendere omaggio agli oltre 280 medici che finora hanno dato la vita per combattere l'epidemia di Covid-19. Quei medici che hanno giurato di difendere la vita e non si sono risparmiati, permettendo a quasi un milione e duecentomila persone di guarire, sono gli stessi che vorrebbero abbandonare il servizio pubblico perché profondamente insoddisfatti della loro condizione di lavoro, spiega Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici Nazionale e di Bari. La loro tentazione di fuggire verso l'estero, il privato e il pensionamento anticipato è una sconfitta per l'intero Servizio Sanitario Nazionale e un pericolo che mette a rischio la tenuta di tutto il sistema. I dati dell'indagine condotta dal sindacato medico italiano, effettuata tramite la somministrazione di un questionario agli iscritti, parlano chiaro. Solo il 54% dei medici si vede ancora in un ospedale pubblico tra due anni e il 75% ritiene che il proprio lavoro non sia stato valorizzato. Secondo il presidente Anelli, il disagio della professione non nasce oggi. La pandemia ha solo messo in luce e amplificato carenze e zone grigie che erano già in atto, frutto di decenni di tagli lineari e di politiche che vedevano la salute e i professionisti come costi su cui risparmiare e non come risorse sulle quali investire. Ora è il momento dell'azione e della ricostruzione, argomenta Anelli. Occorre riconoscere e valorizzare l'impegno di tutti i medici, non solo adeguando finalmente le loro ritribuzioni e le condizioni di lavoro agli standard europei, ma anche coinvolgendoli, come richiedono a gran voce, nei processi decisionali. L'analisi si conclude con una nota positiva. Pur demotivati, pur scontenti del loro ruolo, pur incompresi e non valorizzati, i medici non perdono la passione per la professione. Per quella professione che è una formula magica, una miscela unica, fatta di conoscenze, competenze e valori. Di sapere, saper fare, saper essere, termina così il presidente Anelli.